Sono 8.944 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a livello nazionale, mentre in Sicilia sono 794 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, stando al nuovo bollettino del Ministero della Salute rilasciato poche ore fa. Nel territorio nisseno sono 63 nuovi positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 18 sono di Gela, 8 di Caltanissetta, 7 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 5 di Mazzarino, 4 di Sutera, 3 di Acquaviva, 3 di Butera, 3 di Montedoro, 2 di Mussomeli, 1 di Milena, 1 di Riesi, 1 di Serra di Falco e 1 di Sommatino. Ricoverati in degenza ordinaria due pazienti di Caltanissetta, mentre un nisseno risulta deceduto. Sono 366 pazienti guariti dal virus, 87 di Caltanissetta, 71 di Gela, 55 di San Cataldo, 28 di Niscemi, 26 di Butera, 20 di Sommatino, 14 di Mazzarino, 14 di Riesi, 11 di Delia, 10 di Mussomeli, 9 di Villalba, 6 di Serra di Falco, 3 di Bonpensiere, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina, 2 di Sutera, 2 di Vallelunga, 1 di Acquaviva, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli e 1 di Milena.